La prima uscita stagionale del Lecce coincide con un pareggio per 2-2 contro il Monopoli in un via del mare deserto. Inizia la partita e sembrano subito ottimi presagi. Dal corner di Falco, triangolazione con Calderoni, il numero 10 crossa in mezzo e trova subito Koda che piega le mani ad Antonino. Ottimo segnale dal centroavanti appena arrivato dal Benevento che tocca il primo pallone e mette in porta. Complice l'umidità e il grande caldo, la partita viene disputata a ritmi bassi. È pur sempre un'amichevole estiva e si vede il Monopoli solo al 34esimo con una botta dalla destra di Starita che impegna Gabriel che respinge e alza il pallone sopra la traversa. Corini guarda la sua squadra in campo, il Lecce sembra però ancora un cantiere aperto. Le differenze tattiche con l'era Liberani si vedono ampiamente, più verticalizzazione e meno esasperazione del possesso palla in fase difensiva. Nella ripresa al 52esimo, grande azione orizzontale in aria tra il neo entrato Henderson, Mancosu e Monterisi. Ottima la sua prova. Che serve Koda? Il diagonale è stoppato prima di entrare in porta da un intervento disperato di Mercadante. Il Lecce ancora ci prova. Al 54esimo, Shakov gira per Henderson, palla a Koda. Siluro col destro deviato in angolo da Antonino, attento alla sua destra. Al 64esimo, azione di Triarico sulla destra. Rasoterra per Fella, atterrato in aria da Monterisi in ritardo nell'occasione. Dal dischetto lo stesso Fella. Spiazza il neo entrato vigorito e fa 1-1. Non succede più nulla fino al novantesimo, quando la partita sembra destinata al pareggio. Ma in pieno recupero, Dubicas prova la percussione solitaria e viene respinto a difesa del Monopoli. La palla finisce sui piedi di Paganini, che di prima intenzione serve Listoschi, che con il destro batte l'estremo difensore della formazione bianco-verde. Sembra tutto pronto per il primo successo del Lecce di Corini, ma al 93esimo c'è la disattenzione difensiva. Lancio della retroguardia per Fella, che sfrutta il buco di Monterisi, che viene sfruttato al centroavanti del Monopoli, che con il sinistro batte un poco attento vigorito. Finisce 2-2, il Lecce è un cantiere, il Monopoli invece sembra pronto per un'altra stagione da protagonista nel campionato di Serie C.